Buongiorno ragazzi dell'Istituto Majorana, ma anche degli altri istituti che sono presenti per il vostro progetto Erasmus. Complimenti intanto per quello che state facendo e complimenti anche per il Giardino dei Giusti che avete creato ormai dieci anni fa. Sono stato una decina proprio di anni fa visitarlo. Visitare anche l'albero che ricorda mio padre Giorgio Pervasca. Infatti io sono Franco, mi chiamo Franco e sono il figlio di Giorgio Pervasca. Ricordate anche nel vostro Giardino dei Giusti due anche grandi giusti Carlo Angela e Gino Bartali. Io penso che sia importantissimo ricordare queste persone, fare memoria. Sono persone che hanno saputo dire di no, si sono posti al male, non si sono voltate dall'altra parte anche a rischio della propria vita. Giorgio Pervasca per fare qualcosa poi si è inventato un ruolo non suo, quello di diplomatico spagnolo, lui che non era ricordo, è spagnolo, è diplomatico e in questa maniera è riuscito a salvare da morte sicura almeno 5.000 e 200 ungheresi di religione ebraica. Io penso che c'è un racconto proprio della tradizione ebraica che dà il vestito fatto su misura a queste persone, i giusti. Dice più o meno questo, esistono sempre al mondo 36 giusti, nessuno sa chi sono e nemmeno loro sanno d'esserlo, ma quando il male sembra prevalere escono lo scoperto, si prendono i destini del mondo sulle loro spalle e questo è uno dei motivi per cui Dio non distrugge il mondo. Finito questo periodo hanno la grande umiltà, oserei dire, nel senso più alto del termine, di tornare alla vita quotidiana di tutti i giorni e dimenticando un po' quello che hanno fatto. Perché? Perché ritengono di aver fatto solo il proprio dovere e e chi fa il proprio dovere non deve necessariamente avere una ricompensa. Ecco, questi sono i giusti, sono una categoria molto particolare, sono degli eroi con piccolo grande valore aggiunto, oserei dire, la capacità di tacere, di non bantarsi di quello che hanno fatto. Sono sostanzialmente degli eroi a tempo, un tempo strettamente necessario per fare quello che bisogna fare, ma poi tornano tranquillamente alla vita normale di tutti i giorni. In effetti, se andiamo a vedere la storia di Yad Vashem, l'istituto in Israele che dà questo titolo, il filo logico, il filo dello stesso colore che unisce tutte le storie e tutti i giusti, e sono tanti per fortuna, 27.000 circa in Europa, 700 di questi sono italiani. Dicevo che il filo logico, il filo dello stesso colore che unisce le storie di tutte queste persone, sta nel fatto che non hanno mai raccontato la loro avventura, non hanno mai raccontato quanto hanno fatto di bello e di buono nel corso della propria vita, ma sono stati riscoperti da altri, i salvati, i testimoni di quegli eventi. Dopo hanno parlato, ma solamente dopo. Ecco, questi sono i giusti e ricordarli specialmente nella nostra società è importante perché stanno a dimostrare, le loro storie stanno a dimostrare, che qualsiasi di noi, se vuole, qualcosa può fare per opporsi al male. Volevo terminare questo brevissimo intervento col testamento spirituale di Giorgio Perlaska, che secondo me è importantissimo ed è bellissimo. Un giornalista a un certo punto gli chiede perché bisogna ricordare questa storia. Ecco, lui risponde in maniera diretta, semplice se vogliamo, ma con una risposta che è l'uscita del cuore e quindi sono le risposte migliori. Io vorrei, disse, che questa mia storia venisse ricordata specialmente dai ragazzi, dalle giovani generazioni, affinché, oltre a sapere quello che è successo in quel periodo, sappiano porsi a violenza del genere se mai dovessero ritornare. E poi raggiungeva che le violenze possono essere sì fisiche, ma anche morali. Ecco, questo è il più bel testamento, penso, lasciato certamente da Giorgio Perlaska, ma a nome di tutti gli altri giusti. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione, vi ringrazio per quello che state facendo a ricordo di tutti i giusti. Un grazie anche alle vostre insegnante che ho avuto il piacere di conoscere una decina di anni fa, personalmente, quando sono venuto nel vostro istituto. Era estate, voi non c'eravate ovviamente, i vostri predecessori non c'erano, era estate a visitare questo giardino. Grazie ancora e spero di poter tornare a ripeterlo.